La squadra anticrimine del commissariato sulmonese di via Sallustio continua a indagare con una battente attività investigativa condotta dall'ispettore superiore Daniele Lerario sull'aggressione perpetrata da due persone ai danni di quattro giovani di Sulmona, due ragazzi e due ragazze, nella notte fra il 30 e il 31 dicembre fuori un locale del centro. Tutto era filato liscio fino alle tre di notte, poi all'improvviso scoppia la lite con i due aggressori che hanno sferrato calci e pugni ai quattro giovani. Tre di loro si sono presentati a pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona per farsi refertare. Hanno riportato vari giorni di prognosi. Al momento le motivazioni alla base dell'aggressione restano inspiegabili. Gli uomini dell'anticrimine stanno lavorando alecremente per risalire all'identità dei due aggressori. Gli inquirenti non hanno a disposizione le telecamere di videosorveglianza e stanno concentrando l'attività d'indagine sull'ascolto e la ricerca di possibili testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Solo a metà settembre nei giardini del parcheggio di Santa Chiara si registrò un altro caso di aggressione ai danni di un diciassettenne del posto. Qualche mese prima nei pressi della villa comunale a fare le spese della violenza selvaggia è stato un giovane di Rocca Casale. In entrambi gli episodi, come del resto è avvenuto per i svariati casi di aggressione in centro, la polizia ha sempre assicurato tutti i responsabili alla giustizia.